a fare rinascere questa terra. Vive il Movimento 5 Stelle e vi passo la parola a Michele che è il stato di casa e io spero di poter parlare con lui presto di cose concrete, di azioni concrete. Michele. Mi sarebbe stupendo. Grazie per questa parola. Io sarò previso adesso con il muro. Niente, questa credo che se dovesse andare bene non sarà un'avventura personale ma sarà un'avventura di tutti noi insieme. Sarà un'avventura di una provincia che vuole riscatto e che vuole essere rappresentata da me ma comunque da persone che veramente hanno cuore a questa comunità nostra. Quindi io ringrazio tutti per i complimenti, sulle mie competenze, sulle cose che ho fatto in questa vita. Sono stato semplicemente molto curioso nella mia vita, ho voluto fare più cose possibili che mi hanno portato ad avere questo curriculum ma la cosa più importante è che penso sempre siano le intenzioni e il cuore. Io voglio vivere questa cosa insieme a tutti voi. Quindi datemi una mano, diamoci una mano. Ecco, questo è il vero discorso. Grazie a tutti. Spero che voi anche io parlare presto con i tempi di questo che vi ho fatto. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti i candidati. Ho finito per colpi, a lui Marileva, a sua macchina, a voi. Grazie. Grazie.